E' zunta quasi al termine la seconda edizione del mazzo dei libri, come si è svolta l'iniziativa di quest'anno? Ma quest'anno è come dicevi la seconda edizione, la prima già era stata una bellissima iniziativa ma la seconda è stata un'escalation continua, l'altro giorno abbiamo avuto il triomallinconico e il De Silva che abbiamo avuto questa sala piena, non solo ma addirittura stavane c'era un pezzo sulla pagina della cultura della città questo ci fa piacere perché vuol dire che il lavoro che si fa è duro perché la città incomincia a rispondere quando si dice non si fa cultura non è vero perché noi, grazie all'assessore Rocco, devo dire che ha colto subito lo stimolo è una persona che poi coinvolge, abbiamo fatto un bellissimo cartellone quest'anno il maggio dei libri non si fa dall'oggi a domani, c'è un lavoro duro di 6-8 mesi dietro perché chiama un autore, l'editore, quel giorno organizzi, arrivano gli ospiti insomma veramente c'è tanto lavoro dietro e la città piano piano incomincia a rispondere quindi noi diamo un'offerta e poi come dice Silvana bisogna abituare le persone oggi abbiamo la nostra concittadina, la professoressa Rocco per cui è inutile presentarla sono anni che lei continua in questa rivista che ha fatto 60 anni quest'anno o l'anno scorso non ricordo ma comunque è una rivista a livello nazionale Silarus che dà lustro anche alla città perché sono cittadini di battipaglia e anche tante altre manifestazioni, non solo maggio dei libri abbiamo aperto in questi giorni anche penso tre settimane fa la mostra dedicata in occasione dei 100 anni dalla nascita di Italo Calvino che ho invito i cittadini di battipaglia a venire a vedere perché è interessantissima e rimarcare che questa esposizione ha toccato solo due città italiane una è in Toscana a Castiglione della Pascaia dove Italo Calvino ha trascorso gran parte della sua vita ma soprattutto dove è sepolto e l'altra dopo che è andata a Parigi torna a Battipaglia sono 42 le città del mondo che hanno richiesto questa mostra noi siamo orgogliosi perché la teniamo qui in un locale sottratto alla criminalità organizzata e alla fine dell'esposizione, che penso sarà a metà maggio, daremo mano alla ristrutturazione alla riconversione di quei locali in quella che è la biblioteca di battipaglia e se andate lì a vedere c'è un video che vi mostra come sarà la nostra biblioteca Grazie Grazie